per risparmio, credo sia opportuno. 20 anni fa, qui c'era un meraviglioso campo di grano turchi. Abbiamo fatto il torto a tutti gli animali che ne mangiano e abbiamo fatto una pista di volo. Siamo riusciti ad asfaltarla dopo 20 anni. Per dire grazie a tutti dovremmo stare qui un'oretta, ma non serve. Dico che, una vecchia cosa, un chilometro di autostrada non porta da nessuna parte, come lo stesso un chilometro di ferrovia, un chilometro di aeroporto ci porta in tutto il mondo. Abbiamo costruito un ponte per l'Europa. In un momento in cui tutto è difficile, in cui soltanto la fantasia e la creatività di questo popolo marchigiano, il mio campanellismo è risaputo, combinando assieme la fantasia, la voglia organizzativa e la creatività, dobbiamo far crescere queste nostre, piccole o grandi che siano queste nostre cose. L'avventura la iniziamo assieme con Alberto Palma circa 30 anni fa. Cominciamo da Marina Palmenza e poi l'evoluzione. La storia è lunga. Diciamo quello che abbiamo qui oggi. La seconda realtà è un'autica delle Marche asfaltata. Non è lunghissima, non è neanche breve e ne corta. La stiamo, la allungheremo in tempi brevissimi. E allora spero che questi volti, questi amici che ho qui oggi vengano tutte le domeniche perché possano usare questa superficie per raggiungere anche in settimana. Ovviamente i posti di lavoro, Milano in un'ora, Roma in mezz'ora, lo dicevo con Sua Eccellenza l'alto pomeriggio. E quindi questa è una superficie da usare, da imparare ad usare. È uno strumento nuovo che non avevamo e dobbiamo imparare a conoscere in tutte le sue forme. E ne sono tantissime. Abbiamo qui stamattina, la saluto, la signora Zagan dell'aeroporto e della città di Zara per iniziare questo rapporto. Abbiamo già un ufficio a Zara che ci aspetta come lo abbiamo a Sloveni Grades e come lo abbiamo in Montenegro. Abbiamo fatto questo protocollo d'intesa e c'è l'avvocato Balducci di Sernia che lo sta portando avanti assieme a noi. Quindi i nostri programmi puntualmente li manterremo. Diceva Roberto, che è puntualissimo, preciso ed è granitico verremo a bussare a tutte le vostre porte, quindi preparatevi perché ce n'è di bisogno, come diceva Chiara Servigliano veniva a vendere le lamette SuperKR, barbe forte, barbe enorme, noi facciamo guano. Siamo dei piazzisti e dobbiamo piazzare l'avvio superficie. Grazie. Un invito a tutti per le frecce che vi ricordo, unici nella storia, abbiamo avuto in questa superficie nello stesso giorno il sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale, della pattuglia francese e della pattuglia giordana. Siamo qualcuno nel mondo aeronautico. Grazie. Ringrazio gli amici dell'Aeronautica Militare, il generale Scorsi che è qui davanti a me, il generale Ferraguti e tutti gli altri che ci sono sempre stati accanto e che con grande serenità lo sono ancora nell'ombra. Grazie a tutti. Un applauso all'Aeronautica Militare.